Della drammatica situazione in Ucraina, ora è con noi il direttore del Foglio, Claudio Cerasa e ci colleghiamo con la vice direttrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini Buonasera direttore del Foglio, bentornato Claudio, grazie Buonasera Fiorenza Sarzanini Buonasera Buonasera vice direttore del Corriere della Sera, eccola qua, bentrovata anche a te Dunque poi dovremo collegarci ancora con l'Ucraina, mi direte quando è pronto il collegamento Intanto Claudio comincerei da te perché appunto abbiamo sentito la testimonianza di Ilario adesso da Kiev ma insomma la distruzione questa settimana dell'ospedale pediatrico di Mariupol oggi il Papa ricordava peraltro nel nono anniversario del suo pontificato ricordava che Mariupol è la città di Maria la definita città martire insomma dicevo la distruzione di questo ospedale è davvero un cambio di passo anche dal punto di vista proprio del non solo ovviamente dalla drammaticità dell'evento ma anche dal punto di vista dell'immagine di questa guerra Erano i figli dell'Europa che venivano bombardati tutte le mamme e tutti i bambini che erano in quell'ospedale erano letteralmente figli dell'Europa figli di una generazione di persone che ha imparato ad avvicinarsi a conoscere l'Europa che ha fatto figli in una stagione in cui l'Ucraina si è avvicinata all'Europa noi cerchiamo in tutti i modi anche psicologicamente di immaginare questa guerra sia in qualche modo lontana ma oggi è successa una cosa incredibile oggi sono caduti dei missili a Javori una città che si trova a 19 km dalla Polonia ma che si trova a 1500 km da qui da Milano 1500 km è la distanza che collega Milano a Palermo questa è la dimensione del conflitto siamo a due passi ma tu dici che la sentiamo lontana non credo io ho l'impressione che in realtà no però è una cosa molto vicina questa volta la sentiamo molto vicina ma io credo che sia naturale che nelle persone ci sia un tentativo di immaginare qualcosa che ci riguarda dal punto di vista culturale e non ancora militare perché poi questa è la verità certo è un paese sotto assedio aggredito ma è un paese che tutti quanti cerchiamo di considerarlo come nostro ma dal punto di vista pratico la Nato non sta intervenendo naturalmente non è un paese Nato non è un paese di Unione Europea e quindi c'è questo tema c'è questo tema della vicinanza di un paese ma il tentativo psicologico delle persone di considerare questa guerra ancora qualcosa che non ci riguarda direttamente Florenza a me pare evidente anche da quello che abbiamo sentito da Ilario Piannarelli poc'anzi e dalle parole del Ministro che c'è una situazione proprio immanente in Ucraina di urgenza assoluta c'è l'accerchiamento ci sono viveri per due settimane la città è svuotata insomma per gran parte la resistenza che si organizza e dall'altro c'è un'altra realtà quella per cui militarmente non si interviene perché intervenire militarmente significa evidentemente scatenare la terza guerra mondiale sostanzialmente quindi è apparentemente un impasse irrisolvibile che non ho ben capito se può costituire un vantaggio per l'aggressore o al contrario invece no ma in realtà mi ha molto colpito quello che diceva Ilario abbiamo una chat e ci siamo contati e questo appunto dà la dimostrazione di quanto poi sia appunto imminente il pericolo per Kiev è una guerra che io credo tutti noi sentiamo purtroppo molto vicina il problema è la diplomazia come dicevi tu con il ministro della difesa che finora non ha dato alcun risultato è difficile dire quanto questo appunto poi situazione possa andare avanti perché poi gli ucraini stanno resistendo eroicamente ma le truppe russe come si è visto oggi stanno avanzando oggi quello che è successo a Mariupol è evidentemente un cambio di passo prima l'ospedale poi le esplosioni di oggi quindi indubbiamente c'è un clima che si fa sempre sempre più pericoloso e che come giustamente diceva anche Cerasa si avvicina sempre di più verso gli altri paesi e quindi non so quanto poi possa durare in realtà è questa la vera incognita di questa guerra quanto si riuscirà a tenere il conflitto lì confinato tra l'altro insomma vedere che la guerra non va come previsto dal punto di vista dell'aggressore non è detto che non faccia salire l'escalation insomma militare no Fiorenza noi oggi abbiamo pubblicato un articolo sul punto anche la tenuta psicologica di Putin che è un uomo evidentemente molto molto sotto pressione addirittura che avrebbe questi scatti di ira incontrollabili dovuti ai farmaci che assume quindi tutto questo fa ben capire quanto pericolosa e quanto drammatica sia la situazione e quanto pesino le incognite proprio rispetto alle decisioni che Putin potrà prendere nelle prossime ore e nei prossimi giorni per questo è importantissimo l'incontro che ci sarà domani a Roma se gli Stati Uniti e la Cina riusciranno a trovare un punto di incontro è chiaro che tutto questo può aiutare la comunità internazionale a fare pressione sull'aggressore poi Claudio il tema in Italia è appunto le polemiche intorno all'opportunità di aiutare la resistenza ucraina come? come farlo no? naturalmente c'è un tema legato alle armi perché come giustamente segnalavi prima con il Ministro quella questione è centrale fino a che punto siamo disposti a spingerci per aiutare il popolo ucraino e da questo punto di vista la figura di Zaleski è davvero un doppio riflesso un doppio specchio da una parte permette di osservare in maniera cristallina quello che è Putin quello che sono le conseguenze di un nazionalismo patriottico che usa le armi per imporre la propria ideologia ma dall'altra parte Zelenski è diventato anche lo specchio di tutto quello che noi non siamo disposti a fare che sia legittimo o non legittimo lo decidano le persone ma noi non siamo disposti a fare una serie di cose allora ti chiedo scusa ti interrompo perché vedo da Dnipro Emma Farnè collegata con noi buonasera Emma spero che tu possa rimanere con noi qualche minuto perché poi ho anche la pubblicità purtroppo in mezzo allora Emma intanto appunto terza città del paese Dnipro che è stata colpita anche nei giorni scorsi peraltro e qual è adesso la situazione Dnipro abbiamo avuto le sirene antiaeree anche questa mattina molto presto però non ci sono stati altri bombardamenti per fortuna due giorni fa la fabbrica di scarpe che è stata rasa al suolo ma vorrei raccontarvi di Zaporizia che ha un'oretta di macchina da qui Zaporizia è la città che sta ricevendo tantissimi profughi interni sfollati interni che arrivano con il programma di evacuazione li chiamano corridoi umanitari ma in realtà sono evacuazioni fatte dalla Croce Rossa che va nei paesini sempre più vicino alla linea del fronte e cerca di raccogliere più persone possibili soprattutto vulnerabili che non hanno i soldi o i mezzi per prendere un'automobile e magari guidare verso la Polonia e verso l'Occidente e io vi vorrei raccontare in breve tre volte come ho fatto la settimana scorsa di tre persone che ho incontrato per farvi un po' capire che persone sono una è una madre tu puoi rimanere con noi qualche minuto perché io devo mandare per forza la pubblicità certo e non vorrei interrompere no possiamo continuare a parlare ah che meraviglia allora prego continuiamo scusami contro ordine prego diciamo tre storie ecco c'è questo c'è questo c'è questo orfanotrofio a Zaporizia che ha accolto in un piano lo ha liberato e si sono stretti un po' tutti quanti per far posto a queste persone che sono arrivate sono soprattutto donne e bambini allora una di loro Irina perché voglio dare il nome a queste persone è arrivata con il figlio mi ha detto è quasi morto perché quando hanno bombardato gli Aipole che a metà con Mariupoli i vetri della finestra sono completamente caduti sul lettino del bambino che si è ruzzato urlando e poi sono riusciti a nascondersi nel bunker e due giorni dopo grazie a un'evacuazione sono arrivati a Zaporizia quando l'ho intervistata il bambino era con lei non si staccava e continuava a ripetere il suono che fa la bomba continuava a dire bah bah e questa intervista è stata interrotta più volte da questo bambino che diceva questa cosa e la madre gli diceva no sei buono che devi parlare io non sapevo davvero cosa fare se lasciare la mamma dire al bambino stai buono o cercare di consolare il bambino un'altra storia Veronica un'altra madre un'altra donna una vedova tre bambini piccoli anche lei anche lei di Uglia e Pole le hanno detto c'è un corridoio umanitario lei è andata con l'automobile da sola all'incrocio dove ci sarebbero dovuti essere gli autobus e la Croce Rossa non li ha trovati forse perché è arrivata tardi forse perché ha capito male succedono queste cose anche non in guerra lei ha deciso lo stesso di andare attraverso tutti i checkpoint russi mi ha raccontato io ho incontrato i ceceni che mi hanno puntato il mitra addosso una donna da sola con tre bambini in macchina quando glielo ho chiesto ho detto cosa hai fatto lei ha detto ho fatto vedere i documenti e sono andata avanti lo stesso perché non avevo scelta dovevo salvare i miei figli anche a costo di rischiare la mia vita e poi un altro volto che abbiamo incontrato ieri una signora davvero vecchissima avrà avuto 90 anni se non di più è arrivata con tutti i vestiti che aveva addosso si è seduta e ha iniziato a piangere con una mano teneva il tè caldo che beveva che le hanno dati i volontari e non aveva nessun altro aveva solamente questi volontari che erano forse una decina di persone che dovevano prendersi cura di almeno un centinaio di persone prendersi cura vuol dire registrarli capire se sono malati se hanno bisogno di medicine capire dove mandarli capire se ecco magari sono sulla sedia rotella hanno bisogno di una sistemazione particolare e quindi non c'è neanche il tempo di andare a parlare con queste persone e cercare di consolarle tanti vecchi arrivano in lacrime entrano in questa grandissima sala di Zaporizia che è un vecchio circo trasformato in un centro volontario ed entrano letteralmente piangendo e questo è il dramma delle persone che vivono in quest'area che come vi dicevo non possono scappare perché vivono in aree isolate vivono in campagna vivono in case che hanno da tre quattro generazioni sapete come le nostre famiglie italiane che magari vivono nei paesini da tanto tempo sono legati al loro territorio tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto noi non sappiamo dove andare non sappiamo cosa fare non sappiamo neanche perché i russi questo mi ha raccontato un altro anziano almeno 80 anni mi diceva ma io ho lavorato 50 anni per i russi ero a Kursk stavo nelle loro fabbriche perché adesso ci fanno la guerra e queste sono domande che per me è molto difficile da rispondere grazie Emma ci vediamo la settimana prossima grazie infinite ma diamo la pubblicità l'avanzata delle truppe russe verso Kiev è una scia di morte e devastazione non ha retto nuovamente la tregua per i corridoi umanitari le bombe russe sono cadute sui reparti maternità e pediatrico dell'ospedale di Marino tra gli oltre due milioni di profughi in fuga dall'Ucraina almeno un milione secondo le stime dell'Unicef sono bambini Kiev è città pressoché circondata una trentina i missili russi caduti sulla base militare di Yakorov a 25 chilometri dalla Polonia Claudio Ceranza il direttore del Foglio tu ti sei posto una domanda sul tuo giornale sino a che punto siamo disposti a sacrificare il nostro benessere per difenderci dai dittatori ti sei dato anche una risposta? purtroppo no purtroppo no perché le domande sono tantissime in questi giorni quella più importante è cercare di capire qual è il confine anche tra deterrenza e impotenza perché noi oggi vediamo un ordine nuovo generato dall'aggressione di Putin che offre la visione di un mondo diversa rispetto a come Putin la immaginava c'è un'Europa unita molto unita una Nato che non è più clinicamente morta sanzioni mai viste prima paesi lontani dalla Nato come la Svezia e la Finlandia che si avvicinano alla Nato paesi un tempo neutrali come la Svizzera che non sono più neutrali paesi storicamente pacifisti o comunque antimilitaristi come la Germania che si riarmano paesi diciamo anche la Gran Bretagna che si riavvicina all'Europa quindi c'è questo senso di forza con le sanzioni che hanno fatto crullare il rublo del 75% o distrutto l'economia russa su breve termine poi però c'è l'altro lato della medaglia c'è il nostro senso di impotenza rispetto a queste immagini rispetto ai bambini che piangono alla fuga ai 7 milioni di profughi che vanno via dall'Ucraina quindi cosa siamo disposti a fare fino in fondo per poter aiutare quel popolo che è un popolo fratello grazie Claudio Fiorenza sì insomma anche vedendo queste immagini che abbiamo riassunto per riassumere la settimana che abbiamo montato insomma è anche inimmaginabile il dopo non so come dire su che base si potrà si potrà poi andare avanti a me sembra comunque che in realtà noi siamo disposti a fare tanto sia come Italia sia come Europa l'Italia ha comunque avuto un atteggiamento diverso da precedente per quanto riguarda sia l'accoglienza dei profughi noi abbiamo fatto è stato fatto un decreto per cui tutti gli ucraini che arrivano in Italia possono stare da noi senza alcun vincolo possono stare un anno anche dal punto di vista militare appunto il ministro diceva è stato secretato però noi subito abbiamo inviato armi all'Ucraina subito ci siamo io credo anche dal punto di vista proprio umanitario l'Italia si sia messa molto in gioco e mi sembra che il sentire comune sia quello di andare fino in fondo anche con molti timori anche con la paura per la prima volta vediamo nei supermercati l'accaparramento delle merci a Roma e in altre città nei supermercati comincia a scarseggiare la merce quindi le persone hanno paura ma nello stesso tempo mi sembra che ci sia una grande propensione ad aiutare questo popolo che appunto come abbiamo visto dalle vostre agghiaccianti immagini è un popolo disperato ci sono questi pullman che arrivano ci sono questi anziani che arrivano disperati che non sanno dove andare ovviamente in modo diverso noi che siamo qui ma insomma siamo disperati perché proprio non sappiamo come fare eravamo impreparati evidentemente non abbiamo possibilità di reazione insomma al momento è vero impreparati e nello stesso tempo timorosi credo anche certo io tra l'altro ci tenevo Fiorenza a segnalare al pubblico l'uscita di questo tuo libro importante che uscirà giovedì prossimo Affamati d'amore è un libro che un'inchiesta giornalistica che parte peraltro dalla tua esperienza personale è che si riferisce appunto ai pazienti affetti da disturbi alimentare attraverso le residenze di cura per i medesimi pazienti in tutta Italia è un libro importante oggi è chiaro che pronunciare l'aggettivo importante è tutto relativo naturalmente ma insomma questo è un problema serissimo per milioni di persone anche nel nostro paese ci sono tre milioni di persone in Italia che soffrono di disturbi alimentari soprattutto giovani e sono disturbi quasi sempre legati in qualche modo poi alla mancanza d'amore in qualche modo o comunque correlato all'amore insomma e anche alle situazioni purtroppo di emergenza appunto di ansia questo libro è nato con il covid la guerra è un'altra situazione in cui le persone fragili naturalmente nelle persone fragili aumenta la paura e quindi aumenta anche l'angoscia Solferino è l'editore io ringrazio Claudio Cerasa direttore del Foglio ringrazio Lorenza Salzanini vice direttore del Corriere della Sera alle prossime grazie Claudio grazie Cerenza grazie molto grazie a te grazie a te grazie a te